Martedì 5 febbraio, buongiorno e ben ritrovati carissimi telespettatori di FanoTV, questa è la rassegna stampa e tra poco vedremo i giornali in edicola. Allora partiamo dal santo del giorno, oggi è una santa importante, è Sant'Agata, spendo due parole velocemente, Sant'Agata è nata a Catania, da nobili genitori verso il 250, quando scoppiò la persecuzione di Decio, era una giovane di rara bellezza, ne fu conquistato il governatore Quinziano, il quale fece arrestare, la fece arrestare e rinchiudere in una casa di piaceri perché venisse preparata all'incontro con lui, tutta però presa dall'amore di Cristo, la giovane Agata rifiutò sdegnata ogni proposta, il governatore passò allora le torture arrivando fino a farle strappare i seni, accecato dall'ira e dalla passione Quinziano fece torturare Agata fino alla morte e la santa viene invocata appunto per la guarigione delle malattie al seno. Il sole è sorto questa mattina alle 7.20, tramonterà alle 17.24, il tempo c'è poco da dire, avremo cielo sereno poco nuvoloso sia per la giornata di oggi martedì che per quella di mercoledì come vedete dalle immagini e giovedì, giovedì attenzione alle gelate diffuse soprattutto nella nottata al primo mattino. Il tempo sarà stabile fino al fine settimana con situazione da monitorare invece per la giornata di venerdì a causa del posizionamento ancora incerto di una saccatura di origine atlantica. Allora adesso andiamo subito a vedere i giornali, partiamo dal Corriere Adriatico, il Corriere Adriatico in primo piano e qui vediamo la prima e la seconda pagina, la cronaca con l'arresto avvenuto a Fano, si parla di Camorra, affiliato al clan dei Vollaro, l'uomo accusato di un omicidio avvenuto a Portici nel Napoletano nel 2004, era nella Pesarese da più di 10 anni, dopo il delitto di Natale legato alla vendetta dell'Andrangheta, nuovo allarme sulle infiltrazioni mafiose nel territorio. L'arrestato è Mariano Donadona, scrive il Corriere, era finito nei guai già nell'aprile del 2016 per un furto a case bruciate a Pesaro, su di lui anche sospetti legati alla droga. Centro pagina invece la fotografia dei vandali che devastano il gazebo dei Bagni Lucio, una notte di eccessi sul lungomare di Viale Trieste. La pagina di Fano invece è sul restyling che il Comune di Fano ha in mente per la Pescheria e per Piazza Andrea Costa. È una nostra priorità, dice nell'intervista che ha rilasciato a Massimo Fughetti del Corriere Adriatico l'assessore Carla Cecchetelli, parla anche della geografia dei mercati, anche quelli di quartiere, l'assessore Blinda, le in centro storico e rilancia su Carignano. E Fano dice, rispondendo alle domande del collega, è l'unica città che riserva la piazza principale allo svolgimento del mercato per due giorni alla settimana, ricordiamo la giornata del mercoledì e quella del sabato. È vero che in qualche occasione però si è dovuto trovare un compromesso tra il mercato appunto e l'organizzazione di qualche manifestazione nel cuore della città. Chiede Fughetti, c'è in qualche modo un'alternativa alla piazza? Si pensa al Foro Boario per esempio che è nato proprio con una funzione commerciale, ma chi se la sentirebbe? Risponde l'assessore di eliminare quel grande parcheggio nei pressi dell'ospedale. E dunque spostare il mercato al di fuori del centro storico, ripeto, sarebbe un controproducente. Sotto invece l'attacco della Lega al sindaco Massimo Seri che secondo appunto il partito di Salvini farebbe lo scarica barile soprattutto sulla strada per Muraglia. Seri che secondo la forza politica cerca di smarcarsi dalla responsabilità di aver firmato il protocollo con la Regione Marche in cui c'è quell'atto che prevede la copertura di 20 milioni di euro per le opere viarie che in qualche modo appariva subito palesamente inadeguata per una nuova viabilità verso l'ospedale unico di Pesaro, perché sapete che c'è l'ospedale, ormai si farà l'ospedale unico, però in tanti si pongono il problema di come arrivarci. Ecco allora che in questo piano firmato dal sindaco con la Regione Marche c'è la previsione di 20 milioni di euro per sistemare le strade e per arrivare dunque con facilità al sito di Muraglia. Poi si parla dei lavori al pincio con i ritardi causati deliberatamente, qui invece è il Movimento 5 Stelle con Adar Omiccioli ad accusare Seri e l'assessore ai lavori pubblici Cristian Fanesi. Li definisce dilettanti che rovineranno anche il carnevale. Hanno sbagliato i conti il sindaco e l'assessore, altro che fine 2018, nei loro piani i lavori al pincio dovevano terminare giusto appunto per il carnevale, così avrebbero potuto farsi dei bei selfie con le forbici in mano tra 60 mila persone per inaugurare appunto questo nuovo pincio. In realtà sta andando un po' tutto in ritardo, sta andando male e dunque secondo Adar Omiccioli ci sarà un pessimo impatto sull'immagine della città di Fano e della sua manifestazione, il carnevale, con le immagini di due bei cantieri non terminati che saranno rilanciate dalle telecamere delle tv nazionali. Poi sotto si parla invece dell'illuminazione a led che è stata installata con 27 nuovi lampioni, 20 recentemente accesi tra il Codma di Rosciano cui fa riferimento la fotografia che vedete in questo momento e il cimitero di Rosciano. Poi altri 7 analoghi punti luce sono stati attivati a Metauriglia lungo la strada comunale di Ponte Alto. ASET che ha il mandato da parte del Comune per realizzare appunto queste nuove illuminazioni ha investito circa 50 mila euro su tre distinti interventi. La tecnologia a led tra l'altro va detto garantisce un risparmio di circa il 30% rispetto alle lampade a vapore di mercurio migliorando le prestazioni dei punti luce. Allo stadio invece, allo stadio di Fano, il Mancini ancora tutti sotto la pioggia. In tribuna la posa dei piloni può attendere, non sarà effettuata nemmeno durante lo stop del campionato tra il 12 febbraio e il 3 marzo. Dunque i tempi si annunciano ancora piuttosto lunghi con lo smontaggio della vecchia struttura, addio ai 100 posti. E poi si parla dell'accordo di una convenzione tra le guardie zoologiche della ONLUS OIPA e l'assessorato all'ecologia urbana guidato da Samuele Mascarini. Il Comune di Fano da molti anni dispone di un ufficio dedicato alla tutela degli animali e al controllo del randagismo, le guardie zoofile, lo ricordiamo dell'OIPA, sono dotate di decreto prefettizio che conferisce loro la funzione di polizia giudiziaria, in particolare per quanto concerne gli animali d'affezione. Il nucleo provinciale, che è composto di 22 guardie e coordinato da Matteo Ceccolini, nel corso del 2018 ha effettuato più di 200 interventi in tutta la provincia di Pesorbino, dei quali 50 a Fano. E poi qui leggiamo le pagine di Pesaro, largo tre martiri, si testa il rondò, prove tecniche pure cattabrighe, domani l'allestimento della rotatoria sulla statale, all'ingresso nord altre tre rotonde sperimentali. L'assessore Belloni dice abbiamo ascoltato le richieste di chi abita nel quartiere e poi le ruspe che ieri mattina sono entrati in azione nella zona degli orti dove passerà la bretella per l'interquartieri, quindi addio agli orti, le ruspe in azione a muraglia, alla fine soltanto 25 appezzamenti di terreno hanno dovuto essere sacrificati. L'altra pagina di Pesaro, due articoli, il primo ricordando l'omicidio bruzzese, quello di Natale, una marcia organizzata per dire no alla violenza mafiosa, si terrà il prossimo 15 febbraio, il corteo partirà da Via Bovio dove è stato appunto ammazzato Marcello Bruzzese di 51 anni, fratello di Girolamo, Biagio Bruzzese, pentito dell'andrangheta che cercò di uccidere il boss Teodoro Crea. La marcia che si intitola Libertà e partecipazione è organizzata dai quartieri di Muraglia, Monte Granaro e Centromare si concluderà al Palazzo di Giustizia in Piazzale Carducci. Una marcia dunque silenziosa contro la volgarità assordante di quelle armi da fuoco che il giorno di Natale hanno spezzato una vita ma non alla nostra comunità, dicono gli organizzatori. Pertanto i pesaresi sono invitati a partecipare a questa marcia, lo ricordo il 15 febbraio, ci sono anche i numeri di telefono che troverete nel giornale di oggi. Mentre la fondo di Ricci a Lanzi, del segretario del sindacato di polizia, tirato in ballo senza però nominarlo, quel poliziotto dice Matteo Ricci fa politica, Ricci che ha evidenziato che Pesaro è una delle città più sicure d'Italia, lo ha detto anche Salvini, anzi secondo me dice Ricci ha anche un po' esagerato. Sotto invece dice ci sono poliziotti che fanno politica, fino a qualche mese fa tutti ci credevano che rappresentavano i poliziotti ma poi quel poliziotto ha continuato con riferimento appunto a Lanzi senza però nominarlo, sembrava ad un certo punto che fosse anche candidato sindaco a Pesaro. E' sempre più chiaro dunque a tutti che c'è molta politica e poca sostanza. Sul lungomare di Trieste invece una notte di eccessi, raid teppistico di giovani al bagni lucio, sono state divelte le strutture portanti in legno del gazebo e abbattuta la staccionata di protezione. Dalla valle del Metauro per il contratto di fiume c'è il Sidi Colli al Metauro, nove comuni firmano il patto della rinascita del bacino idrogeografico, la valle è caratterizzata dalla presenza di cinque siti, Natura 2000 ed ha una vivace ricchezza ittica. Poi la fusione tra Isola del Piano che dice no a Monte Felcino, il Consiglio Comunale ha deliberato l'adesione all'Unione Montana. Dalla valle del Cesano no alle barriere vicino alla linea ferroviaria, il Sindaco Nicola Barbieri rilancia e suggerisce l'arretramento della ferrovia. Il Sindaco chiede un tavolo di confronto con il Ministero, con la Regione e con i colleghi interessati. Il progetto lungimirante è auspicato da tutti per un miglior sviluppo urbanistico della città, cioè quella di spostare. Ogni tanto qualcuno l'avanza questa proposta, è una cosa faraonica, però non impossibile chiaramente. Sopraluogo al Cimitero, il cantiere avanza regolarmente, a San Lorenzo in campo gli amministratori hanno controllato l'andamento dei lavori. E poi da Mondolfo, Daniele Ceccarelli che ha deciso di lasciare i comitati cittadini e quello della salute pubblica per un rilievo sbagliato sul bilancio comunale. Ora, dice lui, ho commesso un grave errore e quindi mi dimetto da tutti gli incarichi. Chiedo scusa, mi sono clamorosamente sbagliato. Chiede Venia dunque Ceccarelli per un'analisi sul bilancio comunale, quello di Mondolfo, in cui denunciava un ritardo nella pubblicazione degli schemi di bilancio sull'albo operatorio. In realtà non è così perché lui dice, ammette di non aver visto che gli schemi erano già stati invece pubblicati prima del Consiglio comunale, che dall'altro si terrà stasera, e annuncia così le sue dimissioni da componente del Comitato Cittadino Mondolfese e dal Comitato per la salute pubblica. Poi via Fermi, sempre Mondolfo, che si ribella a quei padroni di cani che non si degnano di raccogliere i regali dei propri cagnolini o dei propri cani, insomma, e quindi si ribella, raccogliete i regali dei vostri cani. Questo è il cartello che è stato messo, vedete qui su questa grondaia, insomma, è una cosa che avviene un po' ovunque, ma è la maleducazione più che altro di chi non li raccoglie, perché poi i cani fanno quello che possono, insomma. Arrivano gli artificieri, oggi faranno brillare invece la bomba, il ritrovamento di un ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale a Mondolfo, nella zona di Valle del Pozzo, per il quale oggi, meteo permettendo, è prevista la rimozione, ha fatto rinascere, attenzione, sullo svolgimento delle varie fasi dell'avanzata alleata nella liberazione della città fortificata sul mare. I fatti risalgono alla vigilia del 18 agosto del 1944. Da Valle Foglia a Ucchielli apre tre nuovi punti IAT, è una opportunità a costo zero. Gli uffici saranno a Sant'Angelo in Lizzo, a Monte Fabri e col Bordolo. La Regione manderà quattro persone ogni anno. Gli uffici IAT sono uffici che si occupano di informazioni turistiche. Vogliamo rilanciare l'attività del Centro Culturale Giovanni Santi? Oggi poco operativo. Poi ghiaccio anomalo sulla 423. Il Sindaco chiama l'ANAS. Maxi Carambola innescata da un canale di scolo. Scongiurare. Dunque altri disastri. Questa è la priorità. Ecco perché il Sindaco ha chiesto di intervenire su questo scolo che poi quando appunto gela crea tutti questi disastri. Questa è la fotografia dell'altro giorno quando ci sono stati due mezzi, anzi quattro mezzi, questi sono soltanto due coinvolti in una Maxi Carambola avvenuta appunto la scorsa settimana a causa del ghiaccio. Adesso andiamo a vedere velocemente il resto del Carlino. Questa è la pagina principale. Caccia al commando. Delitto bruzzese. Hanno agito in cinque. L'intera famiglia ha seguita per alcuni giorni e due quartieri si mobilitano contro la mafia, come abbiamo detto, con la marcia. Vale ha presentato la nuova moto. Sono ancora carico, dice lui. Il doctor alla vigilia dei 40 anni. Compierà 40 anni tra qualche giorno. E poi parcheggia la Baia. L'arrocco di Ricci. Cemento contro Verde. Il sindaco difende la scelta contestata però dai residenti. Andiamo a vedere le pagine interne. Qui le mettiamo una a fianco all'altra. Eccola qua. No alla violenza alla mafia. La marcia dei due quartieri. Non si può far finta di niente. Mentre fanno la polizia arresta un presunto camorrista per omicidio. Era già stato catturato a Pesaro due anni fa per furto. In azione un commando di cinque persone. L'intera famiglia ha seguita per alcuni giorni le indagini. Rilevante numero di video che riprenderebbero sicari e complice. E in effetti colpisce il totale disinteresse dei killer riguardo a levitare le telecamere della città. Il procuratore Derao, tra l'altro il capo della procura nazionale antimafia Federico Derao, ha criticato duramente la mancata protezione. una delle lacune più eclatanti è stata l'assenza di informazioni da parte della polizia sugli spostamenti della vittima. E queste invece sono le persone elette e che faranno parte del nuovo consiglio provinciale. Sono gli eletti, ci sono due, quattro, cinque, due, quattro, cinque, sì, dieci, dodici. Eccoli qua. La più votata è stata Margherita Mencoboli di Forza Italia. Sono chiaramente in minoranza, sono soltanto quattro del centrodestra e il resto sono di centrosinistra. Mentre il sindaco di Mondolfo non ha partecipato per protesta. Peccato, dice qualcuno, perché avremmo così potuto sicuramente eleggere anche il quinto consigliere di centrodestra. Però questi sono i nomi, più o meno li avrete sicuramente riconosciuti e sono coloro dunque che fanno parte del nuovo consiglio provinciale della provincia di Peso Urbino. Matassoni, siamo sulla pagina di Urbino del resto del Carlino. Chi è Matassoni? L'ex comandante della polizia locale di Urbino, che adesso è diventato vice. L'ex comandante replica alla giunta Urbinate. Dice lui, io ho rispettato la legge, dal sindaco, dunque da Gambini, è un attacco questo personale. Dunque Roberto Matassoni sta valutando il percorso anche legale da seguire di fronte alla rimozione dell'incarico. Le motivazioni che sono state fornite dal sindaco Gambini e dall'assessore alla Polizia Municipale Guidi sono a suo avviso inaccettabili. Lui si difende e dice in tutti questi anni di servizio non ho mai avuto una sanzione disciplinare, mai una valutazione negativa. Sui permessi ZDL dice io e i miei collaboratori non possiamo essere attaccati per aver fatto il nostro dovere, così siamo al paradosso. Abbiamo semplicemente applicato le sanzioni e i trasgressori in base alla legge. Sul giovedì notte dice mi chiedo cosa c'entra il giovedì. Noi abbiamo svolto sempre il nostro servizio in collaborazione con la Polizia di Stato e altre forze dell'ordine. E poi sul clima di lavoro all'interno della Polizia Municipale di Urbino dice il clima è buono, anzi direi ottimo, il personale è con me e forse invece gli agenti ce l'hanno con l'amministrazione comunale, almeno si chiede. E adesso cosa intende fare? Insomma intende valutare se ci sono le condizioni per agire e per vie legali e quindi tutelare i miei diritti, dice la mia dignità, la mia immagine, la mia professionalità più che ventennale. Questa è la risposta pubblicata sul giornale di questa mattina. Poi addio ad un notaio storico, sempre a Pesaro, si è spento Ragazzini, è scomparso dopo una breve malattia Luigi Ragazzini, già titolare di un noto studio notarile in città, nonché presidente dell'Associazione Diabetici di Pesaro dal 96 al 2014, aveva 86 anni. I funerali si svolgeranno nella giornata di mercoledì, però con date e luogo ancora da destinarsi. E poi ancora per quanto riguarda le commemorazioni, lunedì al Teatro della Fortuna e martedì nel Salone Metaurense, si parla dopo la giornata della memoria, per ricordare la Shoah, si ricorda invece il dramma delle foibe. A Pesaro e Fano si mobilitano per la giornata del ricordo, la giornata della memoria e poi subito dopo la giornata del ricordo. Al Teatro della Fortuna, lunedì 11 febbraio alle 9, si trarà un momento commemorativo in occasione appunto della cosiddetta giornata del ricordo, apertura affidata al presidente del Consiglio Comunale Rosetta Fulvi, poi parlerà anche Mascarin, l'intervento anche di Vanessa Maggi, storica e collaboratrice del Museo Ebraico Carlo Evera Wagner di Trieste e poi le conclusioni saranno affidate al sindaco Massimo Seri. A Pesaro invece il 12 febbraio nel Salone Metaurense della Prefettura, quest'altro appuntamento sempre per quanto riguarda il giorno del ricordo. La pagina di Fano del resto del Carlino, Seri, annuncia un risarcimento per i commercianti del Pincio che hanno subito disagi per questo prolungarsi dei lavori. La promessa dice contributi ma solo perché ha avuto una reale perdita dai lavori in corso, i lavori dovevano terminare in questo periodo e così sarà, dice lui, il problema sono le incognite. Il biglietto sul Carnevale si paga per le sfilate, non per gli altri eventi, andrebbero fatti dunque in centro. Sulla questione delle macchine dell'Asur, quelle auto sono in attesa di rottamazione, le abbiamo già cedute ad una società di pergola, aspettiamo che vengano a questa società, che venga a ritirarle. Poi la scuola bus che non passa, è successo ieri mattina a Cucurano e Carrara, i bambini sono stati lasciati a piedi, il centrodestra parla di ennesimo servizio, mentre Fabio Tombari che lascerà la presidenza della Fondazione Cassarelli Spalmio di Fano a maggio di quest'anno e si può dire soddisfatto per il Palazzo Borgoggelli, è stata approvata la variante urbanistica, può diventare dunque un museo, la Giunta ha approvato il cambio di destinazione che è propedeutico all'acquisto che verrà effettuato appunto dalla Fondazione Cassarelli Spalmio di Fano. Per quanto riguarda le barriere, la Regione ci tuteli, continua la battaglia contro il progetto di rete ferrovie italiane, Barbieri accoglie l'invito di altri sindaci per una mobilitazione e questa dovrebbe essere la barriera, dovrebbero essere le barriere ferroviarie antirumore come quelle che dovrebbero sorgere a Marotta, insomma non sono un granché. Il cimitero, la parte vecchia a San Lorenzo in campo si rifà il lifting, i loculi erano oggetto di infiltrazioni, i lavori per una spesa di 55 mila euro. L'ultima pagina la dedichiamo allo sport, in particolare per il nuovo regolamento che è stato redatto ed è stato pubblicato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, lo ha reso noto proprio in questi giorni e basterà arrivare, il Fano ha una chance in più in questo caso, basterà arrivare quart'ultimi per poter brindare alla salvezza, ma c'è ancora tanta strada da fare. Massimiliano Barbadoro fa in questo articolo una sorta di previsione un po' allo stato attuale dove ci sono le squadre del Rimini, Teramo, Alma e Renata a 24, Gian Erminio a 21, Verona a 20, Albino Leffa a 19 e alla luce di questo regolamento sulle retrocessioni appunto dovrebbe esserci, come dire, circoscritta a queste sette squadre la lotta per la permanenza nella categoria nel gerone B di serie C e quindi c'è da lottare, c'è da correre, però insomma non è poi così malvagia la situazione. Noi ci fermiamo qui, la rassegna stampa è finita, stasera c'è l'appuntamento con il telegiornale come sempre alle 20 e 30, grazie per averci seguito, a voi tutti gli auguri di una buona giornata. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS